Siamo partiti per il delta del Mekong e ci siamo fermati in questa fabbrica. Questa fabbrica è nata nel 1976 alla termine della guerra del Vietnam. C'erano tutti questi reduci, ovviamente mutilati, handicappati, e bisognava dare loro un lavoro. La tradizione è poi continuata e tutti questi lavoratori, per un motivo o per l'altro, sono handicappati e si dedicano all'artigianato tradizionale. E quello che fanno è eccezionale, poi dopo vedremo i loro lavori. E questo è il negozio dove vengono la roba che producono, che è veramente bellissimo, c'è di tutto. Colori fantastici. E' una fattura incredibile, molto particolareggiata. Questo laboratorio è una cosa statale, ovviamente. Nella natura socialista dell'organizzazione statale vietnamita. Il Mekong, gente. Siamo arrivati. Siamo arrivati. ragazzi il primo contatto con il serpente questo famoso snake wine questi dentro la boccia sono tutti i serpenti adesso cerco di farmene dare un bicchierino adesso ci hanno dato una bicicletta con la quale raggiungeremo il ristorante per il pranzo un'altra occasione no vediamo are you ready ready to go mate yeah josh my dutch friend variati il ristorante e scommetto che il pesce sarà fresco e se non vi basta qui c'è il resto del pesce bello ragazzi questo è il nostro pranzo questa è un'orecchia di elefante elefantier ed è fritto con le cipolle e si mangia con questa con questa carta di riso si fanno dei piccoli involtini la verdura qualcuno invidioso buon appetito guarda guarda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.